Ragazzi, volevamo dirvi che in Sardegna siamo arrivati C'è la nonni, c'è la madi No, non la facciamo vedere, non la facciamo vedere signora Allora, a parte che siete pesanti come le merde, perché siete veramente pesanti come le merde Io non nego foto a nessuno, faccio foto con tutti quanti Sono la ragazza più serena del mondo e se mi voglio rivedere con il mio ex sono stracazzi miei Lo faccio, non me ne... Che pesanti che siete, zio Billy, siete pesantissimi Siete pesantissimi, veramente pesantissimi In tutto ciò io sto andando finalmente dalla mia famiglia in un posto normale nel mondo Che pazienza, raga, quanto rompere i coglioni Parole, 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 parole Ragazzi, non capisco perché vi state scandalizzando Cioè, capisco per la tetta, ok Ma purtroppo non hanno rispetto in considerazione delle persone Ma a parte questo, lo sapete che andrà, ci stiamo rivedendo Quando e se mi rifidanzerò con lui Come vi ho già detto, ve lo dirò Come vi ho già detto, ve lo sapete che andrà Come vi ho già detto, ve lo sapete che andrà